L'appuntamento è in diretta questa sera alle ore 21. Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, in studio a Cittasera per rispondere alle domande dei cittadini. Contatto diretto al numero 0521992820, domande e commenti anche su Twitter, Google+, e pagina Facebook di Teleducato. Un'occasione importante per rivolgersi senza filtri al sindaco di Parma in una stagione politico-amministrativa densa di progetti, contrassegnata dall'emergenza economica, dai sempre più preoccupanti effetti della crisi, ma che vede il comune di Parma costantemente impegnato su più fronti, specie quelli che hanno a che fare con le politiche sociali. In campo anche i progetti futuri. Dopo la presentazione del piano triennale delle opere pubbliche, l'amministrazione cittadina guarda al 2014 con qualche speranza in più rispetto ad un recente passato nel quale il peso dei debiti ereditati ha fortemente condizionato l'azione di governo dei 5 Stelle. Nuovi progetti e soprattutto manutenzioni. Il comune ripartirà da qui per rimettere in marcia la città dopo aver scongiurato il rischio default. Naturalmente non mancano polemiche e detrattori, dai veleni successivi alla presentazione del libro di Pizzarotti con le durissime censure di tutta l'opposizione, fino all'ultima polemica, quella legata alla decisione del comune di attuare domenica il blocco del traffico in centro storico a causa degli sforamenti del PM10. Questi e altri temi saranno al centro di Cittasera con in studio il sindaco di Parma in diretta questa sera alle ore 21.